Di nuovo immersi in questo amabilissimo gioco Ma tra rosso e nero cambia... Ok, ho fatto bene, credo Guarda che è molto figo giocarlo, molto molto figo Ok E quindi devo sistemare lo schermo, credo Ok, ci ha fatto venire qua Quindi dovrebbe... Che cazzo di paura Garamond Garamond Ah, quindi ci sono vari percorsi E non posso accederci Ma se io vado qua Mi fa fare altro? Ah Cioè sono diversi... Una zona corrisponde al nome di qualcuno A, B, A, ok Devo trovare delle lettere Quindi il nesso è questo E la C come... Qua è Super Mario Molto simili ma anche diverse nell'essere proprio le meccaniche Volevo andare... Volevo andare... Se per favore... Ok Oh no, 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 ce l'è della E È qualcosa di strano lì Che cos'è? No, dai Stavo vedendo quelle cose qua che si muovono Oh mia No, c'era la G L'E3G Una F abbastanza birichina È figo sta acqua qua Molto È tutto figo Ormai sono diventato un dipendente Dal figo Ok E comunque come l'hanno... Vabbè passati che bello... Oddio Ma dove cazzo? Ah quindi sono nello stesso posto di dove... E là c'è Ma guarda Sgraccio Ok Credo... No Oh... Oh... Ah... Merda Ok Fammi volare Fammi volare ancora C'è... Della lettera là da prendere Dai cazzo Ce la possiamo fare Wow La M Ok Terminato Anche questo posto Molto figo Cazzo di paura Ma che è? Dai che sono anche solo al buio Che diavolo Ok No aspetta Vabbè ma non fate queste cose brutte però dai Prego Che devo fare? Mettere i volti al... Sono un po' l'ignorante che non si ricordo il nome dell'artista Non è quell'ina bianca Ok Che cazzo mi serviva a far scendere l'acqua a questo punto? Scusate non è per cattiveria ma... Vabbè Se proprio dovevo Ma quello ha un occhio che... No Ci siamo E basta così Ok Ok Oh Aspetta io però qua Aha Vedi C'era Qualcosa di segreto Ma stanno andando a fuoco i libri A fuoco Eh scusate ma vengo da... No cazzo E adesso? Merda No dai No da ca... Merda Ah quindi non me li fa riprendere ok Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ci siamo Ok ad ora ad agio Che cazzo sta succede? No vabbè è rimasto Mmm Ciao ciao Però adesso spiegami il motivo Ok No 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 indietro indietro Merda 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 Ma che cazzo però, dai Sono un bruglio C'era della Q qua Tipo, perché cazzo di motivo, dai Ok, ci siamo, andrei, c'è una S, perfetto Fai come vuoi, dai E strana Mamma mia Esploratore Sbloccato un tropeo, ok Vabbè, stiamoci fino a domani Se vuoi Ok No Merda Vabbè Allora No Ma sono stronzo Ma quanto sono stronzo Ma dai, non ci si può un cazzato con un gioco così però, dai È figo, eh Divertente da giocare È molto rilassante Ha delle Delle Canzoni molto rilassanti È un sottofondo molto E se ti voglio faccio così Non cambia nulla Ma dai Cazzo però Va bene Facciamo un modo Mamma mia Mamma mia Della cronologia Della cronologia 1631 Ok Ah Vabbè No, era una bar Vabbè Piano, 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 piano Piano Venga Venga Quando vuole Ok Che cazzo No, dai Scusi Grazie No, 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 no Va bene Aspettiamo qui Entra cazzo Dai Non ci credo 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 Come faccio Come faccio a Ok Esco qua Un'altra stellina Aspetta Fermo qui Pagina del titolo Comarchio tipografico Di Robert Stein Serpente Vite Lancia Carino Non so cosa c'entra In l'acqua Con Ok Siamo arrivati alla fine Credo Con molta sfortuna In questo Video Però Ci siamo No Scherzo C'era della roba Da prendere La Ma dai Non ci credo Presa Vediamo C'è Ok Quindi è l'ultima zona Questa qua Io però Devo fermarmi Perché No ragazzi Devo fermarmi Mi dispiace Perché Purtroppo Purtroppo Finché non riesco A gestirmi bene Con i video Ho un tempo limitato Per registrare E Caricare Caricare Dei video Quindi mi dispiace Però Continuerò Perché mi sta piacendo Spero che a voi vi piaccia E Comunque se volete È gratis Sul Sul Playstation Plus Magari ve lo giocate Da soli E vi leggete Un po' Anche la trama Io mi dispiace Ma non posso portarvi La trama Nel 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 video Ma Spero che vi piaccia Comunque Al prossimo video Ciao a tutti